Tra tutti i detti popolari che si conoscono sui maiali, forse il più noto è dare perle ai porci. In questo caso è singolare come una vera perla. Irina Scheich, riconosciuta donna più bella del mondo, abbia dimostrato di avere grande confidenza con questo pacifico animale da fattoria. In vacanza senza il fidanzato Cristiano Ronaldo, a quanto pare in convalescenza dopo un infortunio, la modella russa ha pubblicato sul suo account Instagram foto che la ritraggono in pose insieme ad alcuni grossi maiali, con i quali fa anche il bagno. Ovviamente sul web si è scatenata la facile ironia sulla predilezione che Irina avrebbe per i maiali, però dobbiamo dirlo, questa volta Irina l'ha servita proprio su un piatto d'argento.